Ciao a tutti, sono Francesco Iannello, senatore accademico e presidente dell'Associazione Studenti Medicina Salerno, Scuola Medica Salernitana. Siamo un'associazione giovane, siamo nati appena un annetto e mezzo fa e siamo studenti per gli studenti. Ci piace definirci così perché è quello che facciamo. La nostra idea di rappresentanza è quella di tutelare l'interesse dello studente nelle istituzioni universitarie, con i docenti, ma anche accompagnarlo nel lungo ed impervio percorso, quali sono i sei anni della nostra facoltà, la facoltà di medicina. Abbiamo fatto tanto in questo periodo, abbiamo organizzato corsi di endovena, corsi di misurazione della pressione, noi riteniamo che queste siano cose necessarie perché oggi si danno per scontate, nessuno è pronto ad insegnare le basi della pratica medica agli studenti e noi da studenti più anziani ci proponiamo di farlo per i più giovani, ma tante sono ancora le cose che vogliamo fare. Abbiamo in programma di organizzare dei corsi, abbiamo in programma di organizzare dei convegni, quale possono essere un corso di primo soccorso o qualunque convegno sulle più disparate branche della medicina, ma siamo attivi anche in campo ludico, sono tre anni che organizziamo il galà di medicina o abbiamo organizzato il primo torneo di calcetto ufficiale della facoltà di medicina. Ci potete trovare fisicamente nella nostra sede che è al primo piano del plesso di Baronissi, ma siamo presenti anche su Facebook con i contatti dell'associazione Scuola Medica Salernitana e il gruppo su Facebook e Studenti Medicina è la pagina ufficiale. In alternativa potete contattare me, Francesco e Annello come presidente o Giuseppe Farivene che è il vicepresidente. Ci aspettiamo di vedervi numerosi e vi aspettiamo nella facoltà di medicina.